There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 E io ci vedo che siamo Gianfio Oggi siamo qui tornati con un nuovo video Oggi noi ci vediamo qui con un video con my mother Ragazzi ciao a voi qui al canale E lei che ha insistito a fare sto video Allora oggi ragazzi siamo qui per fare il video Su insegnare a fare musicale alla propria mother Che già so farli però Che English Allora mamma adesso io ti faccio vedere un mio musical lì Vedi come l'ho fatto? No non ho visto niente stavo parlando ogni fa E facciamo il rare Ok ora tu lo devi fare Adesso io ti lo faccio E tu provi a rifare gli stessi movimenti che faccio io Allora primo passo E fai qua Che ha detto? Mamma mia mamma quanto sei io? Che contenta anche incontente La corsa con te ma Ah ha capito che c'è un incontinenza Scusami io non le so le parole Le devi dettare Che sennò io poi sempre dico uno due tre Quanto è lenta La contentezza La contentezza Senti si la contentezza La corsa con te Non fai video con te Dai Oh ma l'avevi fatto il tutorial o lo devo fare io? Io lo sto facendo vedere il video come l'ho fatto io Poi ci sono alcuni che fanno così per rappresentare scale Altri no Altri fanno così capito? Ok Ok E poi fai così Così con la mano Così ragazzi Pure voi Guardate la casa La vera music Il quale non sono Così Ok Pronta mamma Adesso devi farlo tu Abbiamo anche sto coso ragazzi Veri musical Ok vai mamma Perché noi siamo professional Allora devi mettere Bravissima Sognocca Ok mamma Adesso tu ti metti così Lo tieni premuto Mamma non hai fatto Sì mamma Sì Vedi come l'ho fatto io? La cosa Allora ripetiamo così Tu sai come l'hai fatto Tu l'hai fatto così La corsa Questa è come Tipo Te l'hai fatto così Te devi prendere la tua faccia Non devi riprendere il soffitto Il soffitto non interessa vedere a nessuno Vai la corsa Contembra Pronta? Subito No devi stopparlo Non devo dare botte Non devi togliere Mamma mamma Quanto sei complicata Chiudi Ok perfetto Poi qua fai Da qua Hai fatto così Adesso ti vuoi riparti da un punto tipo nero Qualcosa così E fa così E fa così verso il basso Ma sarebbe il sale Questo se rappresenta Mamma non devi rappresentare il sale È il movimento Allora tu riparti da qua Tu fai il sale e poi fai giù Che logica c'è Il sale è così Il sale mamma Il sale Ah il sale è così Il sale Ok E fai giù capito O così Però questo qua già l'abbiamo fatto Quindi fai così Capito tipo verso giù E tu lo metti sotto la scena Non te lo Te lo rifaccio per l'ultima volta Ho capito Non sono un deficiente Vabbè Capito Poi dopo si riparte da qua Dopo ripartiamo qua dalla destra Oddio ma perché anatomia Facciamo di stare Pronta Poi dal sedere se parte Ok adesso ti riparti da un punto tipo nero Oh nero nel zucchero Ah sì aspetta Confondere lo zucchero al posto del sale Pronta subito Ok 3 Vabbè Mi sono porre di Pilate Poi riparti da qua sopra Oddio ma di tutte le parti Da qua sopra Aspetta Qua ridere Ma questo è di Michele no? Non è di Michele E di chi è? Di Riccardo Arica scusami E qua giri così Ah tu qua Devi riparti dall'alto A ridere di noi No a ridere di niente Se faccio il cascaccio all'ore Costa 8 piottere ragazzi Mi uccide lei Gira Vabbè Faccio per voi Senti l'ultima parte Qua che tu hai fatto da qua dovresti ribartire tipo così Oppure lo fai così Da qua ribarti qua dietro Hai capito il testo? No Ragazzi voi ditemi come faccio a competere con una persona Se una persona è un bravo tutorial Devi imparare una persona Se io ero brava non venivo da lei a farmi far tutorial Poi qua avvicini così Poi giri il telefono Lo rimetti così E ti fai l'attac Poi fai così con la mano Ma stai scherzando? Poi riprendi così Mi viene la trindinite Capito? L'appoggio porta il cocktail Per restare Sì ma è così Bravis per fai Va Dovevi girare il telefono? Vabbè lo gira Ok Ragazzi Questa è il mio Guardate quanto è figo Guardate Oh una figata Guardate quanto è figo Cacchio sembra questo È la cosa più trezza Mi daranno subito la corona È la cosa più brutta del mondo Mamma è bellissima È bellissima Io lo voglio così Ma non mi toccare Ragazzi Questo tutorial Oggi è finito Non è finito Quindi ragazzi Io voglio fare Haters Italia No mamma No No Non lo faccio No Voglio fare un'altra canzone La faccio io una che so fare No Bene ragazzi Spero che questo video tutorial Lasciami i capelli Vi sia piaciuto Se si lasciate un bel like Raggiungiamo i 300 miliardi 457 milioni di like E quindi ragazzi Se questo video vi è piaciuto Raggiungiamo i 25 mila like Se volete un altro video In collaborazione di mia madre E niente ragazzi Vi lascio qui sotto in descrizione Il link del suo canale di youtube E anche del suo profilo musical Ecco il mio profilo musical Guardate quanto ha dato il mio profilo Guarda mia mamma Gira Quindi niente Vi lascio qui sotto in descrizione Anche tutti quanti social Il link dei miei social E niente Noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao Mi do un bacetto Ciao Vi lovo Lovo LoL